Abbattere le liste d'attesa e promuovere la prevenzione e la cura attraverso prestazioni specialistiche in Tramenia con un tarifario concordato con l'Asur Marche per indagini diagnostiche a pagamento con uno sconto del 20% rispetto al costo corrente. Questi i termini della convenzione prima ed unica in Italia al momento di cui usufruiranno i sottoscrittori di Suasa Vita, la cassa mutua della banca di Suasa, grazie all'accordo stipulato tra il Comipa, il Consorzio Tramutue e l'Asur Marche. Quest'iniziativa di cui precedentemente hanno parlato molto bene va proprio in questa direzione, cioè aiutare, dare un servizio tramite questa cassa mutua che chi ha passione di storia come me è una vecchia società di mutuo soccorso, cioè a Fanno c'erano quelli dei pescatori, c'erano dei cattolici che praticamente si mettevano insieme per aiutarci, ritorna anche nel 2016. È lo spirito cooperativo che in questi momenti di difficoltà si cerca di mettere in piede delle iniziative con lo scopo di aiutare soprattutto quelli che sono in difficoltà e credimi che quelli che sono in difficoltà sono veramente tanti. Per noi questo è un progetto pilota che serve comunque a introdurre strumenti più flessibili proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini. Si inserisce perfettamente con un'azione importante che è voluta dalla Presidenza e dalla Giunta regionale sulla lista d'attesa. Al 20% medio di sconto rispetto alla normale tariffa, inoltre la Suasa Vita praticherà alla presentazione della notula un ulteriore sconto a titolo di rimborso, facendo così arrivare il risparmio netto sul costo della prestazione al 38%. Non poca cosa se pensiamo che oltre a scegliere la struttura dove effettuare la visita, gli utenti non devono attendere i lunghi tempi d'attesa ai quali il CUP sottende. A tutto vantaggio anche di operazioni di prevenzione e screening, dove tempi lunghi e costi rappresentano un disincentivo a tutto discapito della salute pubblica. Oltre a queste prestazioni che vanno nel campo della diagnostica risonanza magnetica, ETAG cardiovascolare, ecoimmagine, ecodoppler e quindi anche nella cardiologia, prevede anche campagne di prevenzione. Noi come Suasa Vita abbiamo già iniziato l'iter burocratico e dentro il mese di maggio inizieremo una campagna di screening del melanoma con il poliambulatorio di Senigaglia, in quanto nella regione Marche purtroppo le indagini statistiche ci dicono che è in aumento il melanoma. Quindi tutti i nostri soci potranno usufruire a un prezzo convenzionato di questo screening che inizierà da maggio per tutti i nostri 1500 soci.